A ritorno della bella stagione i ciclisti potranno percorrere la pista a trave fenile molto attesa dalla cittadinanza. Ad annunciarlo il primo cittadino Massimo Seri che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo sul cantiere in corso di realizzazione insieme all'assessore Marco Paolini, alla consigliera comunale Laura Serra, al direttore di lavori Fabio Bertulli, tecnico della provincia e con alcuni rappresentanti del comitato per la pista ciclabile di Fenile. Lunedì 5 ottobre, condizioni meteorologiche permettendo, si riavvieranno i lavori sul tracciato eseguiti dal personale della provincia per un costo complessivo di 200.000 euro. L'obiettivo è quello di svolgere la maggior parte degli interventi entro il mese di dicembre per poi eseguire alcuni completamenti come l'asfaltatura nella prossima primavera. Ormai siamo in dirittura d'arrivo e i tempi sono certi, salvo quegli allungamenti che ci possono stare, però non quei mesi come è venuto in passato. E di collegamenti ciclabili per incentivare la mobilità sostenibile se ne occuperà in futuro anche l'architetto fanese Paola Stolf, attualmente al comune di Pesaro, ma che presto si andrà ad aggiungere ai componenti dell'ufficio del gabinetto del sindaco. Per quanto riguarda il settimo assessore e rimpasso di giunta, il sindaco ha promesso di annunciare a giorni la decisione presa che a sicura serie avverrà senza alcun costo aggiuntivo. Sì, questa è una telenovela, io capisco che bisogna fare polemica su tutto. Io ho sempre detto che le scelte si è fatte in piena autonomia e funzionale ai bisogni che ho nell'amministrare. Comunque delle definizioni le faremo nella prossima settimana. Conferma un rimpasto di deleghe? Per quello che riguarda i deleghe qualche accorgimento ci sarà, sì. Il sindaco poi ha annunciato battaglia sui trasferimenti pro capite dal governo ai comuni marchigiani. Secondo i dati del 2014, ad esempio, il municipio di Pesaro ne ha ricevuti 120, quello di Urbino 161, il comune di Ancona 94 pro capite, mentre Fano soltanto 63. Una distinzione definita da serie ingiusta e iniqua perché sul bilancio fanese ha inciso per circa 4 milioni di euro in meno. C'è un'ingiustizia che il comune di Fano subisce e questo non mi sta bene. Ho già parlato con alcuni sindaci che sono nella stessa condizione. Inizieremo a richiamare l'attenzione su questo problema facendo magari se necessario anche azioni forti ma non siamo più disponibili ad accettare un'ingiustizia di questo tipo. E ripeto, mi fa specie che nessuno abbia mai posto in passato con forza, abbiamo messo in essere iniziative per denunciare e per recuperare quel gap che, ripeto, è ingiustificabile. Buone notizie poi sul dragaggio al porto di Fano perché oltre a quello da 25 mila metri cubi iniziato due settimane fa e l'intenzione già confermata di portarne via altri 24 mila tra sabbie e fanghe più inquinati, il comune potrebbe rimuoverne ancora avvicinandosi alla Darsena, ma è in attesa di una risposta da parte di ARPA che ha eseguito ulteriori esami. Se sono bravi e fanno questo sforzo, noi prima che la dragga parte potremmo aggiungere ai 25 mila altri 7.500.